video di un bosking di un nuovo prodotto che mi ha mandato eco flow eco flow e io la ritengo una dei leader di accumulatori energetici di accumulatori di energia e mi hanno mandato la loro ultima uscita che è la eco flow delta 2 che è appena appena uscita diciamo che è un prodotto molto simile a quella che ho già però un po più piccola un po più compatta non con le prestazioni di quella che ho già ma con delle prestazioni leggermente inferiori e anche il prezzo ovviamente facciamo un bosking all'interno perché adesso finisco di lavorare e a buio quindi lo facciamo direttamente dall'interno vi faccio vedere come è fatta vi do due specifiche e poi vi dico anche un progetto un'idea che ho per per il van perché è una cosa che mi ha sempre mancata da quando sono andato a vivere nel mio furgone e è una cosa che grazie ad eco flow riuscirò a diciamo riavere e quindi sto 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 pensando una cosa intanto facciamo un bosking e poi e poi vi dico cosa voglio fare apriamo abbiamo le sue istruzioni polistirolo e la vedo già forse non so se dal video rende ma la vedo già che è proprio piccolina cioè rispetto a delta max è piccolina allora prendiamo la su nella scatola abbiamo ancora un'altra piccola scatoletta praticamente è la sorellina minore della della power station della power station grossa che ho io livello di peso ovviamente essendo più piccola si è ridotto di molto questa pesa circa una decina di chili la delta max pesa 20 quindi si è ridotto di molto e ovviamente si è ridotta anche la capacità della batteria e la capacità di ricaricare però si è ridotto anche il prezzo la versione delta 2 che quella che appunto è appena uscita e la particolarità oltre a essere un po più piccola è che la velocità di ricarica è diventata veramente il suo punto di forza perché la velocità di ricarica di questa power station è allucinante cioè assicurano in 50 minuti l'ottanta per cento della carica e se non sbaglio in ottanta minuti il cento per cento ma in 50 minuti l'ottanta per cento della carica è tanta roba in questo pacchetto penso ci siano i suoi cavi allora abbiamo il cavo che avevamo anche nell'altra power station di una gomma morbidissima questo da ricaricare da ricaricare con l'accendisigari se ricarichiamo con l'accendisigari la ricarica da accendisigari è molto lenta però può essere una buona alternativa perché se ti serve una due venti mentre stai andando secondo me tenendolo attaccato all'accendisigari diciamo che non arrivi tanto a caricare ma arrivi a compensare quello che stai consumando dopo ovviamente dipende cosa gli attacchi se gli attacchi un condizionatore forse no abbiamo un jack a me sconosciuto ma penso sia un 12 volt e ovviamente se sempre ovviamente tutto super super curato da ecoplo anche anche queste cose qua cioè si vede che ci tengono a non fare brutta figura alimentazione a due eventi per ricaricarla devo dire la verità l'ho accesa e sono rimasto un po spiazzato perché appunto l'ho spacchettata avanti a voi l'ho accesa e ho visto il display tutto in modalità adesso non so se lo vedete l'ho acceso si vedeva tutto così tutto sembrava che avessero spaccato lo schermo e ho avuto un attimo di perplessità ho detto oh me ne hanno mandata una rotta e devo già mandarla indietro invece no ci ha messo penso 6 7 secondi i cristalli liquidi si sono ricomposti e quindi è tutto perfettamente funzionante ovviamente la power station è mezza scarica abbiamo il 31 per cento di batteria e mi dice 84 ore di autonomia in questa situazione qua cioè nel senso in questa situazione qua che non c'è una beata niente ovviamente si possono accendere tutte queste prese usb quindi abbiamo un sbc da 100 watt un'altra usbc da 100 watt due usb a e due usb fast charge c'è la cala ricarica veloce gli attacchi anche un iphone o cosa da questa butta fuori penso un paio di ampere carica veramente velocemente la giriamo questa piccola manetta da questa parte qua abbiamo quattro prese 220 abbiamo questa che è un'uscita penso 12 volt mi dice sì ma penso c'è scritto 12 volt on off che posso accendere l'uscita 12 volt qua abbiamo un'uscita 12 volt con la classica presa 12 volt due uscite con il jack 12 volt che ci danno anche in dotazione per attaccarlo non so cosa anzi più avanti farò vedere a cosa potrei attaccarlo questo e niente tutte le prese come l'inverter o come questa presa 12 volt si attivano premendo il tasto relativo alla presa con questa si attiva anche l'inverter integrato con queste si spengono si sente anche il click del relè dell'inverter per i più nerd e da questa parte qua abbiamo gli ingressi un tasto rese ingresso per il carica da macchina oppure serve anche per inserirli dentro i pannelli dentro i pannelli solari portatili che eco flow ad alistino secondo me sono veramente degli ottimi prodotti calcolavano 100 adesso non mi ricordo 160 watt e spingevano 120 con il tempo incerto e appoggiati di proprio così come alla cavolo senza dargli una posizione quindi secondo me sono tanta roba su 220 che ci serve per attaccarci il nostro cavo 220 e ricaricarlo direttamente e ricaricarla direttamente dalla presa di casa come sapete queste power station possono essere controllate anche da remoto come la delta 2 anche come la delta max che ho anche la delta 2 può essere controllata da remoto ho semplicemente aperto l'applicazione di eco flow e mi dice nuova unità trovata facciamo aggiungi 83 ore come mi dice qua 83 ore di autonomia e non c'è nessuna sorgente in entrata non c'è nessuna sorgente in uscita una cosa interessante che a questa power station posso dargli cliccando posso attaccarla una connessione wifi quindi posso dirgli e ovviamente solo a 2,4 gigahertz posso dirgli collegati al wifi di casa o al wifi del van e io da ogni parte del mondo ovunque io sia vedo la mia power station quanto sta consumando quanto magari sta ricaricando con i pannelli solari o quanto sta ricaricando con l'energia elettrica o un qualunque altra cosa è molto interessante questa power station ha la possibilità ha la possibilità di espandersi ci sono delle altre delle espansioni che aumentano i kilowattora e aumentano appunto la capacità e ci sono delle batterie che sono molto simili come grandezza e anche come forma che vengono semplicemente attaccate una all'altra quante ne vuoi da quello che ricordo o forse c'è un limite questo lo potete vedere sul sito vi lascio ovviamente il link in descrizione e poi crearti tutto un tuo ecosistema e tutto un tuo ecosistema nel senso che dei prodotti del genere che fa eco flow con un suo ecosistema come come del resto ha fatto anche apple ha creato un ecosistema anche eco flow ha creato un suo ecosistema in pratica ci sono le power station che è il cuore diciamo del edc ok a me servirebbe ricaricare questa power station senza utilizzare l'energia elettrica perché costa perché non voglio spendere dei soldi perché tanto c'è il sole che me la da gratis quindi chissene mi compro questa mi espando mi prendo un pannello fotovoltaico sempre della eco flow io non devo fare nient'altro che girare la mia power station apro questo ingresso qua infilo la presa del tiro la presa del pannello solare magari una parte giusta tac metto il mio pannello solare al sole e non devo impostare niente c'è solamente attacco e via la stessa cosa se l'energia che accumula questa power station per me non è sufficiente ora dico vabbè per me non è sufficiente voglio qualcosa in più tac batteria di supporto e ho un'autonomia doppia parte il fatto che questo prodotto è interessante anche per chi ha una casa perché in questo momento che stanno parlando di razionare di razionalizzare l'energia e l'energia inizia a costare sempre di più e cose del genere con questo prodotto puoi ricaricarti durante il giorno la tua power station perché c'è il sole e quindi gli attacchi appunto il suo pannello solare te la ricarichi la sera c'hai tutta la tua bella energia immagazzinata ti attacchi la tua playstation ti attacchi la tua tv e ti guardi la playstation e la tv senza spendere un centesimo dell'energia super costosa che ci stanno vendendo quindi parlando di playstation arriviamo alla mia idea alla mia idea che ho per il mio van nel senso io collaboro con ecoflow e recensisco i loro prodotti ovviamente ho a disposizione le loro power station e se avete visto il mio video la mia video intervista di qualche mese fa un anno fa non ricordo che mi aveva fatto mattia karamaschi mi aveva chiesto una cosa della mia vita in van mi aveva chiesto cos'è che ti manca della tua vita precedente forse la mia la risposta più diretta che avevo fatto a mattia era stata i videogiochi perché perché oltre essere appassionato di natura essere appassionato di montagne di tutti i posti che abbiamo qua in trentino e di tutto quello che ci offre il trentino una cosa che a me piace tantissimo è giocare ai videogiochi video giocavo tanto avevo un simulato quando vivevo in una casa normale nella mia vita precedente prima di sconvolgerla totalmente vivendo in un van avevo addirittura un simulatore di guida in cantina mi manca molto e mi è mancata molto sono stati i videogiochi e bisogna dire la verità che videogiocare con una playstation in libera in van è possibile ma io potrei attaccare all'inverter la playstation attaccarci un televisore un 32 pollici e videogiocare solamente con una batteria al litio collegata direttamente al camper che mi serve per scaldare l'acqua per scaldarmi me qua dentro per far andare tutto l'impianto di luce tutto c'è roba molto e essenziale nel van attaccarli del superfluo potrebbe diventare anche un problema se mi tiri giù la batteria che sono meno 20 meno 15 di fuori perché stai giocando la playstation non è proprio una grandissima idea con le powerstation secondo me ho risolto il problema e adesso più avanti più avanti lo scopriremo perché mi sto attrezzando nel senso che io mi ricarico la mia powerstation me la ricarico in un'area sosta me la ricarico nelle colonne nelle colonnine dove ci sono le ricariche per le ebike queste powerstation hanno la figata di avere una marcia in più rispetto a tutte le altre che è la ricarica rapida e per noi che siamo mezzi itineranti la ricarica rapida è una figata secondo me per chi mi segue può essere una una buona soluzione per tirarsi dentro i figli che magari oh ma sì ma io c'ho la play c'ho questo c'ho quell'altro c'è con questo gli portati dietro l'energia per tutto il weekend e lui può videogiocare quanto gli pare avanti sicuramente ci saranno degli aggiornamenti perché l'idea che vi ho detto di di fare un qualcosa di multimediale qua dentro ce l'ho in testa e mi sto semplicemente attrezzando non ho le disponibilità per dire mi compro tutte cose nuove o cose quindi adesso sto cercando una playstation usata non l'ultimissima perché quella è quasi inarrivabile e sto cercando una tv e sto pensando appunto come mettere giù la cosa dove mettere le cose eccetera eccetera però ci sarà sicuramente un'evoluzione bene questo video di un bosking finisce qua mi sono anche dilungato un po' troppo diciamo avete capito più o meno cosa ho intenzione di fare qua per il van con queste power station della eco flow e ci vediamo al prossimo video se volete commentatemi qua sotto che mi aiutate a far crescere il canale e niente grazie a tutti ciao